Ciascuno deve prendersi la responsabilità delle sue azioni e delle sue parole. E questo è il messaggio che il legale dei colitti, Francesca Conte, recapita direttamente all'indirizzo del sindaco di Uggento Eugenio Ozza. I due colitti, nonno e nipote, sono accusati dell'omicidio di Peppino Basile. Il 28 dicembre scorso, giorno dopo l'assoluzione di Vittorio Colitti Junior al Tribunale dei Minori, Ozza avrebbe contattato il sostituto procuratore Simona Filoni per comunicarle che il delitto sarebbe maturato nel corso di un diverbio nato durante il torneo di calcetto che si era svolto la sera del 14 giugno 2008 tra la vittima e Vittorio Colitti con i suoi amici. I giovani lo avrebbero atteso sotto casa per dargli una lezione. Nel frattempo sarebbe uscito in strada Colitti Senior con un coltello e il resto è cronaca già nota. Queste dichiarazioni hanno spinto i Colitti a querelare Ozza e un certo Flavio Toma per calunnia e diffamazione. Sarebbe stato proprio Toma, almeno secondo quanto avrebbe affermato Ozza, a raccontare al sindaco di questa discussione. Siccome noi abbiamo massima fiducia nell'autorità giudiziaria, non è pensabile che si possa poi scaricare la volontà di depistaggio, la volontà di calunniare, di diffamare, di riferire pettegolezzi sulle spalle dell'autorità giudiziaria che fa il suo lavoro doverosamente. Allora penso che sia arrivato il momento in questa vicenda che ognuno si assuma anche la responsabilità di ciò che dice. E' secondo me impensabile e inqualificabile che il sindaco di una città tardivamente, il giorno dopo la sentenza, riferisca per amore di giustizia circostanze che sono frutto in realtà di pettegolezzi e di opinioni personali e non abbia sentito mai l'esigenza in due anni di indagine anche di spiegare le ragioni per le quali magari Basile ce l'aveva talmente tanto con lui e con la sua amministrazione. La Filoni ha poi notiziato il procuratore capo Cataldo Motta delle dichiarazioni e il PM Giovanni De Palma, che appena chiuso le indagini su Colitti Senior, ha sentito il 30 dicembre scorso Ozza e Toma. Tutti i particolari che ho indicato alla dottoressa Filoni avrebbe dichiarato Ozza a De Palma sono frutto di un ragionamento ipotetico basato sulla nomea di queste persone. Toma, da parte sua, avrebbe affermato di fronte a De Palma che sarebbe stato il sindaco a rivolgergli numerose domande volte a conoscere eventuali retroscena del delitto. Come se cercasse da me, ha detto, conferme che potessero supportare le sue ipotesi. E secco invece il no comment del sindaco Ozza di fronte a queste accuse.